Eder. Mech. Pallister. Per il ferimento dell'influencer trentenne Soukaina Elbasri, nota sui social come si è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. È stato indagato il marito Jonathan Maldonato con l'accusa di tentato omicidio. La notizia è stata confermata dalla procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, durante un incontro con la stampa davanti al Palazzo di Giustizia. La vicenda è iniziata giovedì scorso, quando Jonathan ha chiamato il 118 dichiarando che la moglie si era ferita cadendo e sbattendo violentemente contro una cassettiera. Tuttavia, i medici hanno ritenuto poco credibile questa versione e hanno allertato la polizia. Soukaina, di origini marocchine, presentava un foro nel petto che è attualmente oggetto di indagine per verificare se sia compatibile con un'arma bianca, come un punteruolo. Nonostante le gravi condizioni, la ragazza era ancora cosciente al momento del soccorso e ha confermato di essersi ferita contro un comodino. Questo dettaglio, tuttavia, non ha dissipato i sospetti degli investigatori a causa delle evidenti incongruenze e della quantità di sangue ritrovata nell'abitazione. La polizia scientifica ha effettuato numerosi rilievi nella casa della coppia, situata nel rione di Chiavazza. La procuratrice Camelio ha sottolineato che ulteriori sopralluoghi potrebbero essere necessari per individuare eventuali altre tracce o stanze interessate dall'incidente. La coppia, che ha due figlie di 5 e 6 anni, stava attraversando un periodo burrascoso, come confermato da familiari e amici sentiti nelle ultime ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!